In una conferenza stampa il consigliere regionale dell'Udc, Francesco Mollica, ha presentato una mozione in cui si chiedono maggiori controlli sull'acqua. Abbiamo voluto, nel presentare questa mozione, dare una risposta anche all'invasione di campo che il Consiglio regionale della Puglia ha dato. La dignità dei consigli regionali va rispettata. Se il Consiglio regionale deborda il Consiglio regionale della Puglia, dovesse debordare, beh a questo punto noi non solo siamo solidali, nel momento in cui l'acqua è un bene di tutti, ma non si può pensare che qualcuno possa venire a casa tua a fare il padrone. Noi chiediamo che nell'ambito dell'accordo sull'acqua che deve essere rifatto perché è scaduto, si possano mettere in campo operazioni che a noi interessano, soprattutto in questo momento, dovendo avere anche dei costi in più, il controllo dell'acqua sotto l'aspetto della purezza, sotto l'aspetto dell'inquinamento ambientale, possa compartecipare anche la Puglia, perché se l'acqua la manteniamo pura, la beviamo noi pura, la berranno anche loro pura. Questo non significa che i controlli che loro possono tranquillamente fare, perché la Cana del Sini, il potabilizzatore in Basilicata, lo gestisce Acquedotto Lucano. E del resto Acquedotto Lucano, il gestore dell'impianto idrico in Puglia, dovrebbe fare le misurazioni e le analisi al rubinetto, quindi dare acqua pura ai cittadini. Non si riusciva a capire perché qualcuno voleva venire qui in Basilicata a fare quello che normalmente deve essere fatto, ma lo dobbiamo fare noi.